Quanti bambini! Quante bambine! Tutto bene? Questa bambina è buona? No, lei non è buona, va bene, va bene. Allora, vediamo la mia figlia. Ma voi avete scritto papola Daniele? Sicuro, perché io ho un sacco di lettere. Avete scritto o non l'avete scritto? Io non l'avete scritto. Tanto le mie segretarie però, pure se non l'avete scritto, lo sanno quello che voi avete. Ma voi la bambina non ha le finto. Che dici? Come la bambina non ha le finto? Come la bambina non ha le finto? Non si vede la barba. Non si vede? Si vede la barba. Si vede la barba. Non si vede la barba. Si vede la barba. Non si vede la barba. Non si vede la barba. Vediamo un pochettino. Vediamo, vediamo. Vediamo. È presente Elisa? Nooo. Vediamo, Saretta, vedi chi sei? Io papà lei. Sara. Sei tu, vieni, vieni. Sara, te lo fai. Hai visto anche se non hai scritto che è arrivato lo stesso? Vogliamo vedere che cos'è o vedo un nuovo po' tutti insieme? No, andiamo di prima a tutti. No, andiamo a tutti. Allora. Non me la faccio più. Laura. C'è Laura? No. Ma io speravo di trovarvi, di trovare i bambini tutti qua perché così poi me ne vado al cinema e invece devo continuare a girare. Diteci un po' a Babbo Natale, quando non hai presente, come si dice? Sì. Ok. Pazienza. Marco, c'è Marco. Ah, sei tu Marco? È bravo Marco, vero? Sì, sì. Mi è scritta la letterina o non l'è scritta? Sì. Addirittura, bravo. Sì. Bravo. Sì. Vediamo per Sara. Guarda. Non c'è l'altra Sara. Ecco c'è la Sara Baby, è cresciuta già vent'anni. Vediamo. Ciao. Ciao. Questo è perché sono per le sorelline. Questo qua non ti è più scelto. Qua per loro due, dopo Natale. Lei e lei? Sì. Tieni. No. Io sono io. Eh? Ah, le sorelline siete voi. Le sorelline sono loro. No. Oh Giulia! Eccola qua! Noi non lo apriamo! Potete aprirli! Come si dice? Thank you! Thank you! Emma, you speak English! Yes! Oh, come... E tu le spiguelo! Ma senti! Ok! So and so! Oh! Woo! Woo!